Prima ho detto che non volevo fare lo sborone, adesso invece lo faccio. Dico semplicemente che noi abbiamo vinto. Se tu ti guardi in giro, anche proprio sulla scena artistica, le figure veramente prominenti sono tutti, lasciamolo dire scherzosamente, sono tutti i nostri nipotini. Questa cosa di nipotini veniva usata, i nipotini di Gadda, l'avanguardia letteraria veniva indicata come i nipotini di Gadda. I nostri nipotini sono Olafur Eliasson, Karsten Nicola, gli altri e tutti, quelli che sono protagonisti adesso in giro, insomma, che fanno un po' proprio, come dire, il ritmo anche. E onestamente, e devo proprio dire che con grande correttezza, tutti quelli di questi qui, con cui ho parlato, non solo ci conoscevano, cosa che era evidente e ovvia, ma riconoscevano di conoscerci. Anzi, mi ricordo che Karsten Nicola, quando mi ha visto, ha detto, ah, finalmente, non so come dire, no. Perché in effetti questo finalmente è anche significativo, perché poi noi siamo anche spariti, come dire, dalla situazione, siamo spariti dal proscenio.